Ben trovati ai telespettatori di Le Fonti TV e benvenuti a questa puntata speciale dedicata all'eccellenza. Le Fonti da sempre con i suoi awards e non solo, dedica molta attenzione a quelle imprese che soprattutto in un periodo così complesso sono riuscite a mettere in piedi delle strategie innovative a rappresentare una vera e propria eccellenza nel nostro paese. Per questo do il benvenuto proprio a HSL Hospitality e in particolare al dottor Paolo Tedeschi, CEO e founder di HSL Hospitality, benvenuto, e al dottor Maurizio Costanzo, partner di HSL Hospitality, benvenuto. Grazie. Prima di diciamo un po' capire il premio che avete ricevuto, insomma andare nel dettaglio proprio di questo riconoscimento, volevo chiedere appunto al dottor Tedeschi di cosa si occupa HSL e come nasce, ecco un po' capire la storia. Sì, grazie di questa domanda che mi consente di precisare anche un minimo di origini. Allora noi nasciamo quattro anni fa, quindi una società recentemente costituita, insomma abbastanza giovani nel panorama della società di consulenza, nasce quattro anni fa con l'obiettivo di arrivare a definire dei processi di consulenza nel settore dell'ospitality che fossero in qualche modo innovativi, cioè l'idea era scoprire delle modalità alternative nuove per supportare le imprese del settore rispetto alle problematiche, alle esigenze, alle necessità che queste imprese hanno nel corso della loro storia. Quindi il nostro obiettivo è sempre stato quello di trovare delle strade alternative nuove per supportare le imprese. Da qui anche il nome di HSL, che è un Xuntleones, diciamo nella cartografia romana, quelle aree che non avevano ancora avuto un'esplorazione da parte degli antichi romani, quindi erano denominate delle aree inesplorate, nuove, da conquistare. Quindi un po' questa è l'origine di HSL. Ci occupiamo ovviamente di consulenza nel settore dell'ospitality, quindi una verticale in questo settore con una scelta di campo ben precisa e con appunto la parola d'ordine che è quella di supportare l'imprenditore e l'impresa, perché molto spesso nel nostro settore ci rivolgiamo alle piccole e medie imprese che caratterizzano tutto il comparto del nostro settore, ma non solo, ovviamente tutta l'industria italiana e molto spesso l'imprenditore e l'impresa sono in qualche modo molto uniti dall'essere strettamente legati da un contesto familiare. Quindi in alcuni casi ci troviamo a supportare l'impresa e l'imprenditore proprio nei processi tipici di un'evoluzione dell'impresa di famiglia. Fondiamo la nostra attività su un elemento abbastanza innovativo, che è poi quello che ci ha portato anche al riconoscimento di questo ambito premio, che è l'aver costruito un sistema organizzativo basato su un rapporto di partnership stretto con diverse società con le quali entriamo in rete da tutti i punti di vista e questo ci consente di poter offrire all'imprenditore veramente soluzioni a 360 gradi. Quindi l'idea innovativa è stata quella non solo di identificare delle strade alternative, ma anche quella di identificare delle modalità di integrazione con altre società che ci consentissero di arrivare a definire un portafoglio di servizi ampio e direi sicuramente non dico a 360 gradi, ma certamente molto vasto, che possa corrispondere alle esigenze e ai fabbisogni delle imprese. Dottor Costanzo, a luglio HSL Hospitality si aggiudicate le fonti Awards come eccellenza dell'anno Consulenza Leadership Hospitality con la seguente motivazione. Per essere un'eccellenza in forte crescita, un punto di riferimento all'avanguardia nella consulenza, in grado di trasferire valore alle imprese nell'Hospitality Industry, per l'innovativo modello organizzativo e di sviluppo reticolare e le competenze multidisciplinari che lo rendono il partner ideale per i player del settore. Ecco, come commenta questo riconoscimento? Sì, siamo ovviamente molto contenti, appunto come diceva Paola, un premio che arriva dopo pochi anni di vita di HSL e che premia appunto questo modello alla ricerca di partnership che ci consentono di offrire un servizio di qualità multidisciplinare, in quanto i nostri partner non necessariamente operano nel settore dell'ospitalità, anzi apportano competenze diverse in termini di industrie, ma coprono un po' tutto l'ambito delle attività di un'azienda, dalla parte finanziaria alla parte organizzativa, alla gestione delle risorse umane, alla gestione della leadership o per la parte real estate legata agli aspetti immobiliari che nel nostro business sono fondamentali perché l'immobile e l'albergo insomma sono un tutt'uno ovviamente e questa composizione appunto di competenze ci consente di poter dare appunto un servizio di eccellenza per tutto un po' le aree di attività di una impresa. E tra l'altro noi continuiamo con questo sviluppo, a breve annunceremo un'altra partnership, in questo caso internazionale con un gruppo di Malta e successivamente è probabile l'apertura a fine mese o il prossimo mese a Monaco di Baviera di una filiale di HSL. Quindi continuo in questa logica lo sviluppo di HSL con una logica che continua a livello nazionale ma comincia ad aprirsi anche agli sbocchi internazionali, di partnership con operatori internazionali. Dottor Tedeschi, quindi voi vi occupate di turismo e settore alberghiero, quindi mi dicevate che insomma avete dei progetti di espansione. Ecco, dato questo periodo comunque complesso che almeno non è ancora concluso, qual è al momento lo stato di salute per le imprese che operano in questo settore? Sì, diciamo il 2021 è ancora comunque un anno di lettura del fenomeno, diciamo ci sono delle proiezioni, delle dimensioni che ci dicono che nel 2023, nel 2024 si tornerà a una relativa normalità. Quindi comunque il settore, tralasciando ovviamente gli elementi della stagione estiva che comunque a macchia di lopardo ha funzionato, il settore comunque vive ancora una fase abbastanza difficile da questo punto di vista, soprattutto per alcune, diciamo, contrarietà alla modalità di erogazione dei servizi che questa pandemia ha determinato. Ne cito solo una che è l'impossibilità diciamo di pianificare, cioè questo settore vive di programmazione, l'assoluta impossibilità di avere delle certezze nel futuro, diciamo di brevissimo termine, non consente agli imprese di programmare le proprie attività e quindi questo è un gravissimo danno. Quindi diciamo la difficoltà delle imprese oggi non è tanto solo ed esclusivamente legata alla contingenza, ma è proprio nell'incertezza che vivono. L'esempio più classico, diciamo di tutto, diciamo uno dei risultati più che gli esempi di questa situazione è che quest'anno, proprio in questa stagione continua, una delle più grandi difficoltà delle aziende è il reperimento del personale qualificato. Cioè in tutte le regioni nelle quali noi lavoriamo, e sono quasi tutte in Italia, tutte hanno riscontrato, quindi da nord a sud, una difficoltà nel reperire le persone, perché ovviamente essendo noi una penisola, diciamo che ha caratteristiche anche di stagionalità, ovviamente la difficoltà è nel ritrovare le persone che magari nell'anno precedente hanno lavorato e sono centinaia di migliaia. Quindi questo sicuramente è un elemento negativo. Dobbiamo essere onesti, la pandemia, e chiudo velocemente questa riflessione, ha determinato comunque anche degli effetti positivi, ovviamente tra virgolette, nel senso che ha consentito agli imprenditori di usare questo periodo per fare delle riflessioni concrete sul proprio sviluppo, sulla propria condizione organizzativa e quindi molti imprenditori piuttosto che stare fermi, diciamo in attesa che la tempesta passi, hanno utilizzato questa fase per lavorare sul proprio futuro. Quindi i temi di per esempio digitalizzazione, sostenibilità, eccetera, sono stati temi che stanno avendo, hanno avuto e avranno sicuramente una forte attenzione dagli imprenditori che in questo momento devono, tra virgolette, obbligatoriamente fare questa pausa di riflessione. Dottor Costanzo, quindi parlavamo di incertezze e anche difficoltà appunto di pianificazione, quindi in questo quadro complesso e anche sulla base delle linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il Turismo, quali sono gli elementi e i servizi su cui punta HSL? Ma allora, in linea un po' con quello che sono le direttrici del PNRR, noi abbiamo, sicuramente seguiamo la fase di riorganizzazione delle strutture aziendali in una logica di digitalizzazione di servizi, che è uno dei temi principali del PNRR e al tempo stesso con l'introduzione anche di elementi di managerialità e di modifica dell'assetto organizzativo interno delle società, che è uno dei grandi problemi delle imprese più di stampo familiare, più piccole e chiaramente la sfida che adesso hanno di fronte rispetto a questo mutamento di paradigmi consolidati del mercato li porta a dover avere nuovi innesti in termini di managerialità, tant'è che nel nostro pacchetto di servizi noi facciamo sia interventi di ristrutturazione complessiva che interventi focalizzati a singole aree dell'azienda. Altri due temi che noi abbiamo in grande attenzione sono quelli della finanza sia ordinaria che alternativa, perché seguiamo le aziende nella ristrutturazione finanziaria e poi un aspetto di strategia che è uno dei cavalli di battaglia del PNRR che è quello di percorrere delle strade che consentano l'aggregazione con formule anche non competitive delle imprese, quindi reti di impresa o associazioni di imprese. Noi da questo punto di vista ne abbiamo già organizzata una, ne seguiamo delle altre. Insomma questa è un po' la logica, è una logica che può essere vincente per superare alcuni limiti del settore turistico italiano, cioè la parcellizzazione e d'altra parte è una delle direttrici di sviluppo del PNRR o delle indicazioni delle linee guida del PNRR. Ecco quindi diciamo a fronte di tutte le difficoltà insomma ci auguriamo che ci siano delle grandi margini anche di crescita per questo settore e insomma in base agli aspetti positivi di cui parlavamo prima, si va verso insomma una ripresa ecco, insomma ci auguriamo. Sicuramente, sicuramente si va verso una ripresa e certamente la fase più critica è probabilmente alle spalle, ovviamente rimane questa incertezza, rimane questa difficoltà di programmare e quindi questo è l'elemento che dovrà essere risolto nei prossimi mesi barra anni, cioè la possibilità che si ritorni a un flusso di turisti che viaggiano per il mondo in maniera assolutamente libera e tranquilla avrà bisogno ancora di tempo e siccome l'Italia è un paese che vive di turismo a livello internazionale moltissimo, ovviamente questo dovrà essere ancora un risultato che è ancora da venire, insomma non è certamente dietro l'angolo. Bene, io ringrazio il dottor Paolo Tedeschi, CEO e founder di HSL Hospitality e il dottor Maurizio Costanzo, partner di HSL Hospitality, grazie per essere stati con noi, mi congratulo di nuovo per il vostro riconoscimento, saluto ai suoi spettatori e vi lascio alla programmazione di Le Fonti TV. Grazie.